Relatore, rappresentante del Governo, ha spiegato il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 2. Relatore, prego. Parere contrario. Su tutti. Perfetto. Governo. Conforme al relatore. Grazie. A questo punto passiamo all'emendamento aggiuntivo 2. Ah, no, qui. A questo punto, siccome c'è solo l'aggiuntivo, votiamo prima l'articolo, lo pongo in votazione l'articolo 2. Non vi sono interventi. Votazione aperta. Terzioni. Montroni. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera approva. Poniamo in votazione l'emendamento 2.01. Gianluca Pini. Votazione aperta. Pellegrino. Petraroli. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. Passiamo agli emendamenti relativi all'articolo 3. Relatore. Contrario. Governo. Sospetto. Conforme. Conforme. Perfetto. Passiamo al 3.1. Gianluca Pini. Parere contrario. Commissione governo. Contrario. Commissione bilancio. Votazione aperta. Gili. Montroni. Mazzoli. Mazzoli. Agostini. Gribaudo. Gribaudo. Dichiaro chiusa la votazione. Grazie. Grazie.